Pigneto, un quartiere spesso ricordato per la sua aria da paesino. Vi racconteremo di un luogo creato dagli antichi romani. Un luogo che ha attraversato i secoli, fino a vivere i giorni drammatici della Seconda Guerra Mondiale. Il parco è tutto qua sotto. Io sono nata il primo maggio del 1934. È il 19 luglio del 1943. Parliamo veramente di un detalo labirintico. Perché non è finita l'allarme? Non sono uscito da là. E ricovero. Una parola sola.